Allora Emilio, questo lavoro è esposto qui ad officine, appunto intitolato alla sinistra di Cristo, un progetto che più o meno riassume 5-6 anni di fotografie. Il progetto è fatto a Rio de Janeiro, come sai, e più o meno è focalizzato sulla comunità dei pescatori artigianali che vivono nella Baia di Guanabara. La Baia di Guanabara è la baia dove sorge la città di Rio de Janeiro. Il motivo del titolo trova un po' la sua giustificazione nel fatto come è disposta la statua del Cristo Redentore, che sovrasta appunto la Baia di Rio de Janeiro. Il Cristo è orientato in modo da guardare l'entrata della Baia di Rio ed è ovviamente un buon auspicio per i navegatori che sarebbero entrati o usciti dall'imboccatura della Baia, però casualmente capita che per come è disposta la statua il braccio sinistro di Cristo guardi proprio il fondo della Baia, la zona nord della città, che oltre ad essere il fondo della Baia è anche la zona più industrializzata, più complicata, quella delle favelas, la zona diciamo più degradata. Per cui ho cominciato a fotografare i pescatori insomma un po' per curiosità sia sicuramente della comunità dei pescatori, anche un po' per esplorare questo territorio e poi piano piano mi sono ritrovato con un progetto che cresceva. Diciamo che giornalisticamente non è un progetto di grande spessore perché a storie di inquinamento ce ne sono forse di più drammatiche, però indubbiamente poi piano piano il lavoro è cresciuto e insomma mi ha dato anche qualche soddisfazione soprattutto per i risultati visuali diciamo al di là di quelli giornalistici. Il lavoro diciamo ecco ha ottenuto un po' di visibilità anche nel tempo, questo è stato anche una cosa che mi ha aiutato un po' a darmi un po' convinzione perché pubblicare si pubblica sempre poco, soprattutto quando si fotografa in bianco e nero. Però il lavoro aveva, quando era ancora un po' all'inizio, aveva vinto un po' una specie di premio speciale della giuria nella categoria sempre ovviamente dell'ambiente, però come storia lì si mandano parecchie foto perché era una categoria dove si mandano una quarantina di foto per cui insomma quando sono tante foto non è mai facile tenere il passo degli altri lavori e poi comunque ho continuato a lavorare e poi quando il lavoro era più avanzato in effetti c'è stato sia il premio della fotografia etica con questa categoria madre terra che hanno inserito nel 2020 e poi ovviamente insomma il fatto di arrivare finalisti allo Smith che è stato sicuramente la soddisfazione più grande che ci poteva essere. Allora il mio primo libro è stato editato dalla postcard dal nostro caro Claudio, credo che sia stato il primo libro che Claudio ha fatto che non fosse uno dei suoi lavori insomma, una delle sue raccolte e quindi lo ringrazio ancora di più in quell'epoca insomma per aver dato fiducia. Lui aveva comunque deciso che voleva un po' pubblicare anche altri fotografi, quelli che riteneva in gamba e quelli che magari non avevano poi canali nell'editoria quella principale che non è mai stata così abbondante. Quindi si è lanciato in questa cosa il libro è andato bene e adesso è perfino esaurito, ormai è un libro che ha 15 anni quindi io ne sono un po' distaccato, però Cuba ovviamente il legame con Cuba continua in perterrito, una moglie cubana, una famiglia e parenti cubani che ogni tanto vado a trovare, workshop che organizzo se ce la faccio anche tutti gli anni per andare a Cuba e poi il paese che in un modo o nell'altro continua anche senza Fidel, continua ad essere un paese interessante, insomma un laboratorio di molte cose e quindi in realtà Cuba sta là insomma, ecco finisco per andarci tutti gli anni e questo è. Lascio l'Italia alla fine del 2009, non so bene neanche io perché, però avevo un po' desiderio di fare un'esperienza fuori, non l'avevo fatta da giovane. Qui il lavoro bene o male c'era con i giornali, però sempre un lavoro che è sempre stentato. Ovviamente io andavo fuori sapendo che sarebbe stato difficile fare il fotografo anche fuori, perché anche in Brasile, in America Latina è pieno di bravi fotografi, molti sono di fama internazionale, altri meno conosciuti, ma insomma nell'ambiente del fotogiornalismo sono conosciuti e come. Quindi amore spassionato per Rio de Janeiro, nonostante appunto una moglie cubana, però io conoscevo Rio superficialmente, mi aveva sempre affascinato, ero quasi sicuro che ci sarebbero state un sacco di foto da fare. Quindi ci trasferiamo un po' così come degli emigranti con le valigie legate con lo spago e casualmente per quello che riguarda la mia storia, la mia professione, poi capita che all'inizio del 2010 si viene a sapere che Rio, che il Brasile avrebbe ospitato i mondiali di calcio del 2014 e subito dopo Rio nel 2016 avrebbe ospitato le Olimpiadi. Per cui dal punto di vista giornalistico, un paese che era già un po' al centro dell'interesse per la crescita economica, per il governo Lula, insomma poi in un continente comunque appunto anche sempre abbastanza pieno di vicende politiche e sociali e fatto sta che dal 2010 praticamente il mondo della stampa, insomma i grandi giornali europei cominciano tutti a mandare il corrispondente, alcuni si stabiliscono là e quindi ci sono stati 4-5 anni intensissimi di lavoro per fortuna e anche di una grande crescita poi giornalistica perché comunque sinceramente qui a Roma avevo lavorato per i giornali però qui è un po' tutto diverso, non sempre il fotografo lo mandano col giornalista, lo spessore delle inchieste a volte è meno, è un po' più superficiale forse perché mancano i mezzi o manca il tempo o manca pure la voglia, non lo so, però quindi è questo, quindi anni intensi sia per le vicende socio-politiche del Brasile, ci sono state tante cose, ci sono state le proteste del 2013 quando si è giocata la Coppa delle Confederazioni con i garrarmati fuori dallo stadio e insomma tantissime vicende, quindi sono stati anni intensi e poi mi hanno riportato in Italia contro la mia volontà. Dunque io arrivo alla docenza ormai tantissimi anni fa, purtroppo diciamo arrivo alla docenza perché il lavoro con i giornali è sempre andato però poi da solo non dava ovviamente prospettive, era tutto sempre molto insicuro, molto incerto, l'insegnamento è anche un'esperienza abbastanza interessante dal punto di vista umano oltre che professionale, si impara pure oltre ad insegnare e quindi all'inizio del 2000, proprio 2001, comincio prima all'Istituto Rossellini, l'Istituto Statale per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini e subito dopo cominciò Officine Fotografiche nel 2002 se non sbaglio, 2003, portato da un amico comune e abbiamo cominciato questi corsi di reportage. All'epoca Officine era una piccola scuola rispetto, chiamiamoli, ai cosiddetti colossi che erano un po' le due scuole principali diciamo che c'erano a Roma, che stavano a San Lorenzo, però poi appunto grazie proprio al clima di grande affetto e ovviamente anche di competenza con cui Officine si è mossa all'inizio e piano piano le cose sono cresciute, i corsi di reportage da uno l'anno a un certo punto sono diventati 4-5 l'anno e quindi insomma anch'io ci ho preso gusto, ci ho preso gusto con la docenza, ovviamente la docenza ha bisogno di essere anche disponibile, generosi, altrimenti non se ne ricava molto e infatti io poi sono scappato in Brasile anche per questo, nel senso che poi insegnavo già da 9 anni, 8-9 anni, diciamo che ho tirato una boccata d'aria. In Brasile ho continuato a fare i workshop con i studenti italiani ovviamente, in realtà ho continuato anche a fare quello della Spagna e quello di Cuba, però poi a un certo punto mi sono complicato la vita come ricorderai perché sono stato proprio espulso per rientrando da Cuba e quindi ho seguito senz'altro i workshop e ho avuto con delle scuole locali lì a Rio delle piccole esperienze però di insegnamento, lì un po' il target è un po' diverso, insomma queste scuole finiscono quasi tutte per essere esclusive perché i pochi che si possono permettere di pagare un corso sono quasi sempre un target, poiché sia un po' medio alta e quindi anche il modo di lavorare. Ho avuto un'esperienza bellissima in una scuola nella favela, quella è realmente stata un'esperienza veramente costruttiva e bella. loro si chiamano Immagens do Povo, che significa immagini del popolo ed era una scuola totalmente gratuita, finanziata tramite una ONG olandese, si trovava in una favela di Rio che si chiama Complexo da Marè, in realtà è un complesso di 19 favele, una zona piuttosto complicata perché poi ci sono fazioni diverse che dominano i punti della favela, ma c'era questa scuola che era veramente una perla dove una cinquantina di ragazzi provenienti da tutte le favela di Rio studiavano fotografia e fotogiornalismo gratis. Quindi quella è stata una bella esperienza, non ho avuto una docenza continuativa, ma ogni tanto andavo lì a parlare, sono venuti altri fotografi italiani, è venuto Ceraudo, è venuto Palmera, è venuta Meri, la fotografa finlandese, perché mi sfugge adesso il cognome. Quindi ecco, quello sì, un po' ho continuato sicuramente anche con quello, però sono dedicato di più al lavoro che era anche la cosa che volevo fare di più. Allora, un po' pensando ai nuovi progetti, io mi stacco ancora con difficoltà dai pescatori perché ho dovuto interromperlo senza che lo considerassi finito. Con mia moglie abbiamo deciso di rientrare in Italia, quindi senza allungarmi troppo, però ho dovuto interrompere per la modalità in cui stavamo lì, insomma era un po' un viaggio senza ritorno, quindi non so, ecco, io se potessi avrei lavorato ancora su questo progetto. Comunque, siccome bisogna guardare avanti, le storie non mancano, è pieno di storie e tra l'altro sono rientrato, vabbè, a parte quest'ultimo viaggio mio a Cuba a breve, ma insomma sono rientrato con una guerra in corso, per cui se uno avesse ancora l'impedo giovanile di essere testimone dei fatti, si poteva anche andare, non dico nel conflitto, ma insomma un sacco di fotografi stanno sui bordi, sulle frontiere. Io per il momento mi sentivo di ricominciare da dove ho smesso, quindi sto andando con una certa frequenza a Taranto, vorrei seguire la storia dell'Ilva, per il momento è una cosa embrionale, la storia è già raccontata milioni di volte, però insomma sempre con l'idea dei tempi lunghi, vedere un po' se si può fare un lavoro, comunque la storia è ancora attuale, perché quello che succede a Taranto è ancora un dato di fatto. Ringrazio, sono molto contento che la mostra sia venuta a Roma, veramente, l'ho già esternato questa cosa, poi insomma sia per l'argomento, e sia sì insomma, perché pure io devo dire è stata un po' un'emozione, all'odi comunque vedere, ormai pure noi fotografi stampiamo pochissimo, per cui a parte la pubblicazione del giornale, quando c'è, in realtà è raro che vediamo le nostre foto stampate, addirittura vederne 30 tutte insieme, insomma è un bel regalo. Ringrazio ovviamente Emilio, te, soprattutto, ripeto, per aver portato la mostra qui, Officine Fotografiche per averla ospitata, con il solito affetto di sempre, fa un certo effetto, devo dire, visto che l'altra volta che c'era una mostra in cui ero coautore, non l'ho vista dal vivo, ma solo filmata, diciamo che adesso mi fa una certa emozione, e finalmente vederle qui proprio a Officine. Poi devo dire che questo bianco e nero sulle varieti bianche sta abbastanza bene.